Abbastanza bene! Se anche dobbiamo sudare un spicciolo, lo dobbiamo sudare con le nostre forze. Lottiamo fino all'ultimo soldato e nessuno non deve morire. Come sono accoglienti gli immigranti in Italia? Abbastanza bene, bene. Vero? Per il nostro mestiere che sogniamo in strada, in giro. Non avete problemi con la polizia? No, perché ci conoscono, sono tanti anni che noi sogniamo qua. Non siamo da eri da oggi, sono tanti anni. Grazie a quello lassù, al Dio che ci offre ogni giorno un pezzo di pane. Grazie. Siete cristiani? Grande nostro sindaco di Genova. Sono siete cristiani? Ortodossi. 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 Noi ci amiamo tanto quello la sua, elui a noi. Ortodossi di Bucarest. Bucarest. Grand production Bucarest. Marius, grande Lucian e grande Cornelio. Grazie. Grazie.